Va demolito e il settore comunale urbanistica ha rilasciato un'ordinanza in tal senso. Il provvedimento riguardo nobile indicato come abusivo e privo di qualsiasi autorizzazione individuato e sequestrato nella zona di Contrada Piana del Signore. Lo scorso febbraio i carabinieri del Noe arrivarono nell'area estesa per circa 10.000 metri quadrati rilevando una lunga sequenza di violazioni e non solo urbanistiche. Venne accertata la presenza di masserizze di ogni tipo, di rifiuti speciali e di zone segnate da incendi. L'attività venne segnalata alla procura e furono identificati coloro che la portavano avanti tutti dello stesso nucleo familiare. L'ordinanza di demolizione è indirizzata proprio a loro e all'ex asi ente proprietario dei terreni dove nel tempo è sorto l'insediamento. Negli atti si legge che c'erano rifiuti di vario tipo. Nella fattispecie sono stati rinvenuti numerosi cumuli di terra e rocce da scavo, numerosi cumuli di mattoni, latterizi, piastrelle, malte e cementizie, di rifiuti legnosi, vecchie porte e finestre, rifiuti di natura ferrosa, carcasse di frigoriferi, presenza di frammenti di lastre di cemento amianto. In totale sono state censite inoltre otto aree di circa 10-20 metri quadrati ciascuna. Risultate essere state interessate alla combustione illecita di rifiuti. Le strutture quindi vanno abbattute.